Dopo farmaci e benzina la guerra dei prezzi si sposta sul latte fresco. In Romagna è guerra dei prezzi. Eh sì, dopo i farmaci e benzina la guerra dei prezzi si sposta sul latte fresco. È una liberalizzazione di fatto quella che sta sperimentando Forlì e nell'area romagnola come riporta il sito www.casa.it. Per la prima volta in Italia infatti una catena della grande distribuzione organizzata sta proponendo latte fresco con il proprio marchio e ad un prezzo inferiore di circa 20 centesimi al litro rispetto ai marchi più noti. Il risparmio per una famiglia che consumi un litro di latte al giorno è di circa 70 euro all'anno. Si tratta di una rivoluzione per un prodotto che fino ad oggi ha giocato la propria concorrenza più sulla pubblicità che sul prezzo. È facile verificare infatti come un litro di latte costi la stessa cifra sia in un ipermercato che in un negozio di paese. La catena interessata è la cooperativa di dettaglianti Conad Cia di Forlì che si approvvigiona dalla cooperativa agricola Latte Trento. Le zone di mongitura si trovano in Trentino e nell'Alto Veneto. Si tratta di un latte al 100% italiano e con le caratteristiche di alta qualità previste dalla legge 169-89. Nella promozione di lancio sono state regalate oltre 30.000 bottiglie ai consumatori. Se ne può dedurre che il volume annuo dovrebbe essere di oltre un milione di litri. È ipotizzabile che dopo le prove tecniche di concorrenza in alcune regioni pilota Conad estenda la vendita sull'intero territorio nazionale. Grazie Grazie